Leo Moraes ancora una volta decisivo, determinante per la Virtus Libera, due gol straordinari. Il secondo piazzato di classe all'incrocio dei pali ha mandato veramente in visibilio il paracasale. Sono molto contento per i due gol fatti, però è come dico sempre, è bello fare gol, però è molto più bello vincere. Oggi era troppo importante per noi portare questa società, questi paesi, andare a fare la Final Eight di Coppa Italia. Era troppo importante per noi, siamo riusciti a fare, grazie a Dio. Noi che giochiamo proviamo di aiutare sempre a tutti i modi, a tutte le parti del campo proviamo di aiutare. Però vince sempre il gruppo, quando giochiamo tutti insieme, senza sbagliare, il gruppo vince sempre. Raffaele Cuomo al rientro da qualche settimana dopo un lunghissimo periodo di stop per il grave infortunio. Un Raffaele Cuomo che nonostante tutto non fa mancare mai il suo decisivo apporto. E anche oggi si è stato decisivo. È il tuo il gol vittoria sul rigore? Sì, meno male. L'importante era la vittoria. L'ho fatto io. È stata soltanto una cosa in più un piacere. Comunque ci alleniamo, sto mettendo il massimo per tornare al 100%. Fortunatamente è arrivato il gol decisivo in una partita storta. Perché purtroppo ci sono state delle disattenzioni nostre, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Fortunatamente ci è girato bene il rigore decisivo e è andato a buon fine. Ora le finali late, un traguardo importante e storico per la Virtus Libera. Sì, è un bellissimo traguardo. Adesso pensiamo alla prossima partita di campionato e poi dopo vediamo. Andiamo a giocarci queste grandi finalette. È un sogno per noi. Adesso ci mettiamo il massimo per cercare di portare la Coppa a dischia. Crescenzo Curci, una vittoria straordinaria. Ancora una partita superlativa da parte tua che veramente ha salvato la porta da più di un potenziale gol da parte del Dalia Management. C'è stata una sola disattenzione che ha dato il là al secondo gol, al gol del pareggio degli ospiti. Però hai tenuto vicino tutto il palacasale che ti ha applaudito a più non posto. È stata una partita emozionante. Abbiamo sofferto, abbiamo lottato. È stata una vittoria di gruppo. La squadra mi è stata vicina. Quindi sono riuscito subito a riscattarmi e a risolvermi. Quindi va bene così. È stata una grande vittoria. Una grande vittoria che ora proietta la Virtus Libera alle finalette. Un risultato storico, un traguardo storico. Era un sogno. Ci abbiamo creduto fino alla fine. L'abbiamo ottenuto. Abbiamo dato il massimo in campo. Quindi ci siamo meritati questo risultato. Adesso dobbiamo solo rimanere concentrati sul campionato e prepararci al meglio per ogni partita.